il derby di Milano Inter contro Milan siamo assolutamente in clima pronti per questo grande match pronti per questa grande partita che torna finalmente a mettere in palio punti pesanti per lo scudetto punti pesantissimi una partita eh che tra l'altro come sappiamo benissimo apre anche un ciclo fondamentale per la stagione dell'Inter in questo febbraio mese decisivo per la nostra stagione ci sono novità molto importanti sulla partita quindi iscrivetevi subito al nostro canale per non perdervi neanche un aggiornamento non perdervi nessuna delle nostre eh dirette tutti i contenuti che stiamo realizzando in questi giorni partiamo però subito col parlare di Inter Milan col col parlare di questa partita vi diamo le coordinate innanzitutto come facciamo di solito per seguire il derby di Milano che si gioca sabato cinque febbraio alle ore diciotto la partita sarà visibile in Italia esclusivamente su Dazon noi di Passione Inter invece saremo in diretta ovviamente eh vi invito a seguire la diretta insieme a noi sui nostri canali YouTube e Twitch a partire dalle ore sedici e quarantacinque con tutto il prepartita le formazioni ufficiali il commento della gara la cronaca della gara e ovviamente tutto il post partita fino a tarda serata quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e non perdetevi la nostra lunga live come arrivano Inter e Milan a questa partita vi condivido innanzitutto la classifica che vede l'Inter in vetta al campionato di Serie A con cinquantatre punti conquistati seguono il Napoli e il Milan con quarantanove ma una partita in più giocata da parte delle rivali dell'Inter e poi più indietro invece Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e tutte le altre. Questa la situazione quindi per quanto riguarda la classifica. In casa Milan, il Milan prima della sosta eh aveva superato diciamo a fatica il Genoa in Coppa Italia e poi aveva perso con lo Spezia in campionato e pareggiato con la Juventus. L'Inter invece lo sappiamo bene ha vinto la Supercoppa italiana durante il mese di gennaio contro la Juventus pareggiando poi in campionato contro l'Atalanta quindi il passaggio del turno in Coppa Italia e supplementare i contro l'Empoli anche qui con qualche difficoltà infine la vittoria per due a uno sul Venezia prima di andare alla sosta. Alla vigilia dell'incontro alla vigilia del derby di Milano hanno parlato i due allenatori lato Milan ha parlato il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa ha annunciato due assenze importanti quelle di Ibraimovic e Rebic che saranno assenti quindi in questo derby rientra invece Tomori che però potrebbe partire dalla panchina. La probabile formazione del Milan quindi dovrebbe essere la seguente con Mignon in porta Calabria Calurù Romagnoli e Teo Hernandez in difesa Tonali Ben Nasser Salmakers che sì e Leao Giroud in attacco. Attenzione qui a come andranno ad occupare gli spazi perché potrebbe esserci qualche sorpresa sorpresa di cui parliamo tra poco perché avrà anche dei risvolti a livello tattico che coinvolgeranno anche un po' l'andamento della partita. In casa Inter invece conferenza stampa di Simone Inzaghi molto bella la conferenza stampa del mister sempre molto attento nella comunicazione ha tolto un po' di peso secondo me alla gara cercando di parlare di sfida non decisiva chiaramente non è una sfida decisiva in questo momento anche se molto molto pesante ha dato delle indicazioni sulle condizioni di Gosens alla fine ha detto è alla fine del percorso di recupero quindi come dicevamo anche noi sui nostri canali sta ritrovando la migliore condizione ne avrà ancora per una quindicina di giorni probabilmente ha dato poi delle rassicurazioni anche sulle condizioni di Correa che speriamo chiaramente di recuperare quanto prima perché sarebbe un innesto decisamente rilevante decisamente importante per la seconda parte di stagione. A livello di formazione Inzaghi non ha grossi dubbi ha potuto lavorare durante la sosta con il gruppo quasi al completo quindi Lautaro Martinez che era volato in Sud America è rientrato molto bene soprattutto molto motivato dopo le ottime prestazioni con l'Argentina altrettanto si può dire di Alexis Sanchez che però ha un giorno in meno di lavoro con la squadra eh da questo punto di vista e quindi questo potrebbe agevolare tra virgolette le scelte di Simone Inzaghi che davanti ad Andanovi ci importa va verso la conferma chiaramente della difesa titolare con Skriniar De Frey e Bastoni Denzel Dunfris sulla destra bravissimo Dunfris sono contento che si sia meritato e conquistato il posto da titolare con Barella Brozovic e Cialanoglu in mezzo al campo Perisic chiaramente sulla sinistra in attacco dicevamo Lautaro Martinez è in questo momento anche per essere rientrato prima dal Sud America in vantaggio su Alexis Sanchez Sanchez che però quasi sicuramente anzi avrà certamente spazio durante il corso della gara ed è di Ngeco chiaramente a far coppia con Lautaro prima panchina per Caicedo con l'Inter praticamente certa anche qui l'arbitro della partita sarà Marco Guida vi condivido anche il suo bilancio con con l'Inter ventiquattro partite dirette dall'arbitro Guida di Torre Annunziata tredici vittorie dell'Inter sei pareggi cinque sconfitte ha già arbitrato anche quattro derby un pareggio una vittoria del Milan ai supplementari in Coppa Italia nel lontano duemiladiciassette poi due vittorie dell'Inter in campionato nei due derby eh più recenti arbitrati c'è stato un uno zero con gol di Cardi nel duemiladiciotto poi nel duemiladiciannove il tre a due sempre appunto con Guida ad arbitrare l'incontro questo per quanto riguarda anche i precedenti con l'arbitro di questa sfida arrivando invece a fare un po' una nostra analisi su quella che può essere eh la partita su quello che può essere il derby tra Inter e Milan chiudiamo con qualche sensazione anche qualche previsione su questa gara mi aspetto poi ovviamente i vostri commenti qui sotto per confrontarci eh che derby mi aspetto personalmente penso che sarà un derby molto molto tattico molto sentito eh può essere infiammato dagli episodi altrimenti mi aspetto molto equilibrio alla luce anche appunto del peso rilevante che ha eh questa sfida soprattutto per il Milan devo dire eh piuttosto che per l'Inter ma tra poco ci arriviamo con l'Inter credo che sarà eh portata a fare la partita a gestire il pallone a gestire i ritmi anche del gioco per certi versi credo che potrà essere una partita ruvida eh sullo stile di quella di Bergamo contro l'Atalanta che abbiamo a cui abbiamo assistito eh poche settimane fa perché dico questo perché l'Inter cercherà immagino di controllare il gioco ormai la sua natura è questa lo abbiamo già visto il Milan da quello che leggevamo da quello che abbiamo sentito tramite colleghi di casa Milan sta preparando qualche leggera qualche novità qualche variazione eh a livello anche di gestione dei ruoli e degli spazi come vi dicevo poco fa quindi con che sì che potrebbe fare il trequartista o comunque che potrebbe agire in quella zona di galleggiamento tra centro campo e attacco possiamo aspettarci a questo punto un che sì in rottura su Marcello Brosovic in marcatura quasi a uomo e magari un Selma Kers invece più ancorato a eh Cialanoglu per cercare di rompere la nostra costruzione dal basso e recuperare il pallone molto molto alti a ridosso della nostra area di rigore un po' appunto come è successo contro l'Atalanta con l'Atalanta che ci ha messi molto in difficoltà in quel modo lì eh la seconda linea di aggressione poi credo che sarà più bassa e quindi lì poi bisognerà stare attenti in caso di pallone perso eh con ai contropiedi di Leao e Teo Hernandez per questo motivo sarà molto molto importante essere precisi veramente al millimetro eh nelle uscite ragionate trovare anche valide alternative di gioco quindi attenzione a Bastogna attenzione anche a Barella che per me è in grande crescita possono essere due fulcri del nostro gioco e due elementi molto molto importanti poi ovviamente sarà quanto mai decisivo e quanto mai importante aumentare la precisione nel convertire in gol le occasioni da gol che andremo a creare e questo è un po' il tema di tutta la stagione in ogni caso sono estremamente fiducioso molto molto fiducioso per per questa Inter in questo derby penso che l'Inter eh in caso di partita equilibrata abbia anche più forza per venire fuori eh alla lunga e con i cambi dalla panchina partita che pesa tanto vincere non vorrebbe dire aver vinto lo Scudetto secondo me assolutamente ma sappiamo bene c'è una gara da recuperare contro il Bologna eh vincere questo derby vorrebbe dire quasi estromettere di fatto il Milan dalla corsa Scudetto dare un grosso colpo alle ambizioni del Milan e quindi togliere una concorrente decisamente insidiosa per questo penso che il peso della necessità di vincere tutti i costi sia più sulle spalle del Milan che si caricherà ulteriormente di questo chiaramente quindi anche noi dovremo eh giocare su questo aspetto mentale sull'aspetto appunto del voler e stromettere una grande rivale dalla forza Scudetto fatemi sapere anche le vostre sensazioni mi raccomando aspetto i vostri commenti qui sotto voglio sapere come vi state avvicinando al derby che derby vi aspettate vi chiedo anche se volete farmi sapere nei commenti chi sarà secondo voi l'uomo decisivo di questa sfida mi raccomando iscrivetevi al nostro canale se non lo avete ancora fatto qui sotto cliccate sul tastino iscriviti trovate qui anche il tastino per abbonarvi al nostro canale abbonarvi per noi è molto importante perché grazie al vostro supporto eh ci permettete di portarvi ogni giorno nuovi contenuti ogni giorno nuove live e di commentare appunto tutti gli eventi gli avvenimenti e di farvi compagnia ogni giorno con notizie approfondimenti e non solo quindi mi raccomando e vi ringrazio già per il grande sostegno che ci state dando ci rivediamo in diretta eh dalle sedici e quarantacinque per il derby e per commentare insieme questa grande sfida e speriamo chiaramente una grande vittoria dell'inter grande vittoria dell'inter grande vittoria dell'inter grazie a tutti